Sisma del 90, approvato dal Senato il diritto al rimborso. Saranno 90 milioni per il triennio 2015-2017, quindi 30 milioni per ciascun anno che saranno garantiti a chi abbia avanzato apposita istanza entro il primo marzo del 2010 per dare diritto ai rimborsi per i contribuenti di Ragusa, Siracusa e Catania. Secondo quanto comunica la senatrice del PD Venerina Padua, i beneficiari saranno individuati tra coloro che hanno versato imposte per il triennio 90-92 per un importo superiore al 10% previsto. I beneficiari hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, cioè 28 febbraio del 2008.